Nell'ambito della costante attività di contrasto al sommerso da lavoro, i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno scoperto due cooperative che impiegavano mano d'opera completamente in nero, oppure con contratti di assunzione irregolari. Nel primo caso, le fiamme gialle della Compagnia di Agropoli hanno esaminato le assunzioni in una società cooperativa locale, aggiudicataria del contratto di appalto per il servizio di salvamento sia lungo le spiagge libere del Comune Cilentano, sia presso numerosi stabilimenti balneari. Dal controllo è emersa la sproporzione evidente tra i contratti stipulati con i gestori degli stabilimenti e di lavoratori in carico. I militari, dopo aver ascoltato sia i dipendenti che i titolari dei Lidi, hanno accertato che tutti i bagnini, per lo più studenti universitari, con il brevetto di salvataggio, venivano sottoposti a turni di lavoro molto pesanti, in alcuni casi anche di 50 ore settimanali, a fronte di una busta paga rilasciata mediamente per 20 ore settimanali. Inoltre non venivano loro garantite le ferie e di riposi previsti dal contratto di categoria. Dei 35 lavoratori controllati, ben 5 sono risultati completamente in nero. L'ispettorato del lavoro provvederà al calcolo e al recupero dei contributi non versati su un totale di 3.700 ore di lavoro in nero, prestate dagli altri 30 dipendenti, e a determinarne la sanzione, tenuto conto che, per la gravità delle violazioni, la specifica normativa non ammette alcun tipo di agevolazione. Nel secondo caso, i militari della tenenza di Marina di Casalvelino hanno controllato una cooperativa sociale dedita all'assistenza agli anziani, anch'essa con un numero molto ridotto di lavoratori formalmente assunti. Di fatti, la cooperativa si avvaleva delle prestazioni lavorative di numerosi soggetti impropriamente inquadrati con la qualifica di socio volontario, ai quali formalmente veniva corrisposto un semplice rimborso spese, ma che in realtà ricevevano pagamenti incontanti, riuscendo così a conseguire un ingente risparmio sul costo del personale e sui contributi da versare. Nelle cooperative sociali la figura del socio volontario è normativamente disciplinata e prevede una serie di obblighi ed adempimenti puntualmente disattesi. Al termine del controllo, sette soci sono stati riqualificati come lavoratori dipendenti. Anche in questo caso, la cooperativa è stata segnalata all'Ispettorato territoriale di Salerno per l'utilizzo di manodopera in nero e per i pagamenti effettuati in contanti.